Oltre un milione di clienti del mondo e più di centomila in Italia stiamo parlando della Volkswagen T-Cross, il SUV di segmento B del marchio tedesco, ora oggetto di un restyling con novità a livello estetico e nei contenuti. Salite con noi sul SUV tedesco! Il SUV compatto tedesco ha ricevuto alcuni aggiornamenti anche dal punto di vista estetico, a partire da un frontale rivisto. Sono presenti un paraurti ridisegnato e fari a LED di nuova concezione, che nella versione in prova con allestimento style propongono la più avanzata tecnologia Matrix IQ Lite. La fiancata si mostra più possente con i cerchi da 18 pollici, mentre nel posteriore sono presenti paraurti ridisegnati ed una nuova banda luminosa a LED tra i gruppi ottici, anch'essi con un disegno dedicato ad X e indicatori di direzione con funzione animata. Sono leggermente cambiate anche le dimensioni, con una lunghezza aumentata di 27 mm, portandola così a 4,14 metri. La larghezza è di 1,76 metri, l'altezza di 1,60 metri ed il passo è 2,56 metri per garantire l'abitabilità per 5 passeggeri. A questo proposito, i due laterali hanno grande spazio per gambe e testa. Quello centrale è molto più sacrificato per il tunnel centrale ed il mobiletto per le prese USB-C. Importante è la capienza del bagagliaio pensando al segmento di questa vettura, da 455 a 1.281 litri, con una bocca ampia e senza scalini per caricare e i bagagli. L'abitacolo è stato migliorato rispetto alla versione precedente, soprattutto nell'aspetto e nell'utilizzo di materiali più morbidi al tatto, oltre ad alcuni elementi decorativi sul cruscotto e di rivestimenti delle portiere. Il tutto per rendere più piacevole la vista entrando nella vettura, dove troviamo dei comodi sedili in tessuto, numerosi vani portoggetti del Climatronic a due zone, con i comandi touch a cursore, anche se non sono presenti le bocchette per i passeggeri posteriori. La tecnologia è in primo piano nella nuova T-Cross con il Digital Cockpit di serie su tutte le versioni, con la possibilità di configurare le informazioni a seconda della volontà del conducente. Lo schermo touch centrale per il sistema di infotainment è da 8 o 9,2 pollici, con il software di ultima generazione, anche se il navigatore è un optional. Presente invece la connessione per gli smartphone con Apple CarPlay e Android Auto, anche in modalità senza fili, wireless. Ed eccoci ora al volante della Volkswagen T-Cross 2024. Noi stiamo guidando la versione con motore 1000 TSI da 115 CV, cioè quella più potente, perché l'unica alternativa è il motore sempre 1000 benzina, ma da 95 CV. Infatti non ci sono né motorizzazioni ibride né motorizzazioni diesel o elettriche. Tornando a questo motore, con i suoi 200 Nm di coppia massima, possiamo dire che è un motore vivace che permette di muoversi bene sia all'interno di un contesto trafficato e cittadino, sia su strade extraurbane e anche affrontando qualche tratto di salita contornanti. Ovviamente stiamo parlando di una vettura che non è sportiva, una vettura in cui il comfort è in primo piano anche per poter fare lunghi viaggi. A questo proposito possiamo dire che il SUV compatto di casa Volkswagen ha un'ottima insonorizzazione anche quando si viaggia a velocità da limite in autostrada e assorbe bene le buche e le disconnessioni del terreno grazie ad un assetto morbido appunto adatto a questo tipo di vettura. Inoltre possiamo dire che c'è una buona visibilità sia anteriore che posteriore, ovviamente quella posteriore se ci sono tutti e tre gli occupanti posteriori è un po' più limitata, però nel caso per effettuare le manovre abbiamo anche il supporto dei sensori di parcheggio anteriori e posteriori e di una retrocamera con buona risoluzione. Il tutto accoppiato ad il cambio DSG a sette rapporti, solo forse un pochettino più lento a marce basse e a bassi regimi, altrimenti fluido e pronto nelle cambiate. Abbiamo parlato della possibilità anche ovviamente di effettuare percorsi un po' più impegnativi in salita affrontando dei tornanti, il motore appunto è vivace quindi si affrontano senza problemi, lo sterzo è morbido ma della giusta rigidità per questa vettura, c'è una frenata sufficientemente pronta, ovviamente se si decide di adottare una guida un po' più brillante, un po' di rollio si sente, però c'è anche elettronica ad intervenire a darci un supporto Uno dei punti di forza di questa vettura sono sicuramente gli ADAS di primo livello e non sempre presenti su vetture di questo segmento. Abbiamo il travel assist di serie e poi tra gli altri sistemi di assistenza alla guida abbiamo la frenata automatica d'emergenza con riconoscimento pedoni e ciclisti, riconoscimento dei segnali stradali, il mantenimento di corsia, come dicevamo i sensori di parcheggio anteriori e posteriori insomma c'è tutto per poter affrontare la guida con la giusta sicurezza. Siamo giunti ormai al termine di questo primo contatto con la nuova Volkswagen T-Cross e parliamo come di consuetudine anche un po' di consumi seppure ricordandoci sempre che questa è solo una prima prova e ci riserveremo prossimamente di avere la macchina per più tempo e provarla anche nel nostro consueto format approfondito com'è e come va. Comunque la casa ha dichiarato per questa motorizzazione un consumo medio nel ciclo combinato VLTP tra 5,8 e 6 litri su 100 km. Noi nel nostro test di 150 km circa in un mix tra strada un po' urbana soprattutto extraurbana e anche una quarantina di chilometri in autostrada abbiamo rilevato tramite il computer di bordo un consumo pari a 6,6 litri su 100 km. La nuova Volkswagen T-Cross è appena arrivata nelle concessionarie italiane con un listino prezzi a partire da 26.200 euro ma per metterci al volante della versione in prova cioè la versione con motore da 115 cavalli in allestimento style bisogna salire a 30.900 euro e con questo dal lago di Garda è tutto. Non dimenticate di andare qua sotto per approfondire l'articolo, di restare sulle pagine di Motore Online ed iscrivervi ai nostri canali social. Un saluto agli amici di Motore Online e appuntamento al prossimo video.